Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpa. Al fino a giovedì mattina sulla Liguria cielo grigio e coperto con deboli piovigini e rare schierite più ampie sull'estremo ponente. Dal pomeriggio di domani mercoledì le nubi saranno associate a possibili rovesci e temporali anche moderati. Per un miglioramento disordinato dovremo attendere giovedì pomeriggio successivamente. Da venerdì dunque tornerà il solleone che ci accompagnerà nei giorni a seguire. Il dettaglio oggi martedì 6 agosto la Liguria è esposta a correnti calde e umide di origine marittima che hanno favorito la formazione di una spessa coltre di nubi basse sul centro levante della regione. Qui il cielo si manterrà molto nuvoloso coperto anche nelle prossime ore non mancheranno deboli piovigini. Cielo soleggiato sull'estremo ponente con addensamenti cumuliformi nell'interno. Nelle ore centrali 20 deboli o moderati da sud sud est in rotazione da nord est ponente in serata. Mare calmo poco mosso in serata levante, umidità su valori alti, temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 26 e 29 gradi, nelle zone interne tra 24 e 27 gradi. Domani mercoledì 7 agosto il flusso si intensifica e dal pomeriggio aumenta l'instabilità. Al mattino cielo grigio, deboli piovigini sulla parte centrale della regione mentre sugli estremi saranno possibili residui schiarite. Dal pomeriggio cielo ovunque coperto con possibili rovesci di intensità debole o moderata, più probabili sul centro levante. venti moderati o localmente forti da nord est a ponente, da sud est a levante in calo e tendenti a disporsi da sud ovest in serata. Mare in aumento nella notte fino a mosso, localmente molto mosso, umidità su valori alti, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 21 e 26 gradi, nelle zone interne tra 15 e 23 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 26 e 29 gradi, nelle zone interne tra 23 e 26 gradi. Dopodomani giovedì 8 agosto in mattinata ancora condizioni di variabilità perturbata, con nubi occasionali schiarite, piogge sul centro levante, anche a carattere di rovescio, fino a moderato. Successivo esaurimento dei fenomeni che lasceranno spazio a un pomeriggio all'insegna della nuvolosità regolare con ampi sprazzi di sole e addensamenti residui localmente persistenti, soprattutto nelle zone interne, venti deboli orientali e di direzione variabile, brezze sulle coste. Dal pomeriggio mare poco mosso, umidità sovlori alti, temperature minime in aumento lungo la costa tra 23 e 26 gradi, nelle zone interne tra 19 e 23 gradi. Massimi in aumento lungo la costa tra 28 e 30 gradi, nelle zone interne tra 24 e 27 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina facebook di Arpal. A risentirci! www.arpal.gov.it